controls siamo venuti al mondo con gli occhi chinows e molti di noi scelgono di vivere senza mai aprirli seguiamo ciecamente coloro che ci guidano, votandoci a chiunque ci dia uno scopo per cui valga la pena vivere. Io avevo scelto i marini. Sei mesi prima mi ero arruolato con il mio migliore amico, Will. Eravamo all'altro capo del mondo, schierati in Corea del Sud. Eravamo una famiglia. Sapevo che nel bene o nel male, avrei sempre potuto contare su di lui. Avanti, Mitchell. Non è la fine del mondo. Inizio solo ora a farmene una ragione. In fondo ce la siamo voluta. Beh, mio padre era un marine, quindi non avevo molta scelta. Sì? Anch'io l'ho fatto per mio padre, perché volevo allontanarmi da lui. È impossibile allontanarsi più di così. Ok, gente! Ascoltate! Ecco gli ordini. Entreremo dal punto Epsilon. Giù pesanti, come vi è stato insegnato. Conoscete la situazione? No. Sapete dove andiamo? No! Siete pronti? No. Si comincia! Mitchell, Aeros, avanti! Andiamoci dentro. Eh, quelli che aprono la fila, quindi muoiono. non invadevano Seul. Dovevamo respingerli. Non era solo una missione. Era un'iniziazione. Un'iniziazione. Allora, ragazzi, benvenuti nella primissima missione di Advanced Warfare. Nell'introduzione. Unità da salto, salto bollo. Adesso siamo gli ex. Impulso, secondaria, bla 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 bla. Quindi adesso andiamo praticamente a svolgere la prima missione. Adesso ti diranno, scaccia X e poi andare avanti. Grazie del consiglio. Si parte! Come in addestramento. Che cazzo? Ah, c'è uno schermo. Ma si, cadere alla... sono un'arma spaziale. 30 secondi all'inserimento. Staticamente loro ti hanno sganciato. Si, ho capito, ma stop. Si, ma cazzo, ma... Ho capito che Advanced Warfare è male alle navi spaziali. Ci vediamo. Ma va bene, è figo. Ma come adesso sono girati al contrario allora? Perché prima vedevano la nave, adesso vedono la città. Magari, essendo fermo, magari si sta proiettando quello che c'è sotto. Ah, forza. Tenetemi! Mitchell, chiudi gli scudi! Quadrato, 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 chiudi gli scudi! Si! Un attimo! Chiudi gli scudi! Stupido! Dovete la forza a cadere? Perché non è legato? Reimposto il punto di lancio. Ma stiamo ancora cadendo, quindi... Ah, certo! Quanto cazzo in alto è? Benissimo! Ecco! Alleluia! Allegria, fratelli! Ma hai appena attraversato un palazzo. O forse due. O tre. Tutto a posto? Ma chi lo sa. Morto o mica è morto? Siamo tutti interi. No. Sei deluso? Non è morto. È la porta! Forse è solo svenuto? No, è morto. Sei negativo, eh, però. È morto. Ah, va bene. Ah! Bene. Eh, il secondo palazzo mi sa che non l'avevi superando. Però sono all'ultima. Ah, vedi che sennò arrivano quelli a terno presentamente, rallentando. Sì, diciamo che non sono fatte le cazzole per cadere in questa maniera, magari. Beh, però sono muovibile. Ho ricevuto. Occhie aperti, squadra. Mmm. Occhie aperti. Adesso che cazzo dobbiamo fare? Vedi. Vedi che non è morto? No, è il cadavere. No, è il cadavere. È un zombie. È un zombie. Ilex, puoi muoverti. Dobbiamo scendere e unirci alla squadra demolizioni 1. Vedi, batteria. Sì, sì. Che figata. Torino, stai fermo? Vedi che è tipo in sovrapposizione, il 30. Sì, ho capito. Vaffanculo, hai capito? Torna. Ah, ragazzi, mi ha messo difficoltà il soldato perché non so giocare. Attenzione, brevi accensioni per controllare la caduta. Ok. Andate voi, andate voi prima, va? Il posto di comando è più avanti. Ma boh, però, cazzo. Beh, scusa, ho paura di spaccarmi la gamba, scusa. Aspetta. Ma vaffanculo! Sono impulsivo, ragazzi. Sono un soldato impulsivo. Madonna, oh! Oh, che palle di nuovo. Già, sono morto. Che bello. Contatto. Contatto, contatto. Sto. Cazzo. Ha! Hai messo? Che figata! Vuoi evitare di sparare al tuo amico? Stavo di nuovo? Cioè, praticamente, la granata agganza. Non so cosa fosse successo. Dai, dai, ragazzi. So cosa bisogna fare. Via. Ci troviamo alla fine in maniera etica. Ecco. Vedi che gli altri cadono? Gira, ti guarda là sopra. Ma perché non guarda? Ma ascoltami. Quelli sono i miei amici. Non devo sparare. Casino c'è qua, scusa. Scusami, fermati, Natimo. Scusami, Natimo. Sai cosa mi sembra? Cosa? Guardate che in Titanfall cadevano le capsule con gli alleati. Ah, sì. Sembra uguale. Oh, che figata! Che bello che sei tu! Ciao! Beh, te lo voglio anch'io. Me lo presti? No, poi è una... Ti prego. Me lo presti? Dai, dai, dai! Sparategli! Vabbè. Guarda che spino sta là. Daniela. Ah no, Daniel. È Daniel. Ok, andiamo, andiamo amici! Andiamo! Non so cosa avete detto, ma andiamo! C'è anche le prossime partite ci gioco io. Ricevuto! Occhio e parti, gente! Occhio e parti! Occhio e parti! Ah, oddio! Il tripod! Occhio alla testa! Che figato! Che figo! È fatto proprio come un animale schifoso! Ma che cazzo è? Che figato! Quei amici ti sparano! Che figato! Brutto, stronto! Che figato! 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 Pensavo di trarmi la granata! Invece no! Invece no! Invece no! Invece no! Invece no! Invece no! Bastato! Ma l'ho preso io? Mi dicono scherci al quadrato! Presto, vai a scherci al quadrato! Andiamo a scherci al quadrato! Ah, bello! C'era la foto! Che figato! Perché con l'osso? Qualcuno va dalla torretta! Ma! Entra! Mi hai risoltato da solo! Scusami! Ti ricarica cosa abbiamo dato? Manda via quei droni! Le EMP ci metti un po' a caricare! Perché non spatti il... Il porto qui era... 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 Non posso accansare! Ah, brutti bastardo! È Matrix? Sì! Sono le sentinelle! Sta fissando metallo! RICARICA! 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 Dove sono? RICARICA! 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 Oh, magari... RICARICA! RICARICA! Non mi capite cosa hai appena fatto! MP! Impulso elettromagnetico! Eh, quindi perché hai sparato la cazzo da... Va bene dai lasciamo stare! No, è... È... È nella foga del momento! RICARICA! 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 Non so se posso fare anche... Cazzeggiare... Mentre se no... Mi dimentico di cadere... Come dice... Ultrale... No? Per una schivata a bost... Premi al... Uno è... Spostati! Ah, ok! Quindi... Fattore indietro fa il mio destra minchiata! Non mi vuole... Ma non... Sì, ma se continui a sbattere lì... Non capiscono minchia di quanto vai avanti! RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Granate che si muovono da solo Aspetta un attimo, si faccia così Però, che passerò? Sono amici o nemici? Non capisco se volano Guarda, mira lì, se viene fuori il nome sono nemici O meglio, se ti sparano solo nemici Sono nemici, perché mi sparano Giusto? Tira una granata là sopra Ma cazzo, ma non bucco il vetro Non lo so, magari è un vetrone Non lo so Occhio al tuo amico E che si in culo, scusa, si mette davanti Si Rattata, rattata Cioè, non è amni nemmeno Aspetta, aspetta, aspetta Rattata, rattata, ma c'è un po' Un po' c'è Un po' c'è Eeeh, hai visto cosa ho fatto? Ho visto, io ho tratto una granata Senza alcun apparente emotivo Volevo fare così in realtà Dobbiamo arrivare di là Ah Pronti con i booster Vai tu prima, boss Fammi vedere come si sta Bravo Uh, che culo va là Stavamo smicciando Lo stavo smicciando brutalmente Ok, ci siamo Ho grattato la faccia sul muro Ma va benissimo Vai l'almetto sul lato Non fagliare un po' male Ma perché vai avanti? Non lo so Che cazzo Seguilo! Ciao Se diceva vai avanti Se era scritto vai avanti Noi coreani colpiscono le vie principali Dobbiamo girare quel cratere Per arrivare al distretto commerciale E come aggiriamo quel cratere? Girandosi intorno Quadra demolizioni 1 Qui Badger 01 Quindi bisogna dire Cazzo è qua roba lì? Ti sta spiegando la missione Come funziona? Ah, devo distruggere il lanciamissile Dell'Avo Clancher Semplice? Semplice Sì, non vai lì L'ho distrutto Non è un problema Subito siamo da voi Nemici del cazzo No, perché fai tanto il culo? Perché scusa Abbiamo un... Ho uno stesso scheletro Uno stesso scheletro? Ho uno stesso scheletro Ho uno stesso scheletro Ma che... Droni di merda Speragli Non li vedo neanche Speragli Questi le fanno a shot Scusa Scusa eh Ehm... Come farei tante shot Per il multiplayer Ti dirai bravo? Granata! Per me Cazzo sono ferito Mettete il carrozzare Oh, che verrà questi qua? Aspetta, aspetta Che sono ferito Pezzo di merda Rilancia? Pezzo di merda! Guarda che quando fai questi scatti laterali Cosa è uno che sa giocare Ah? Quando faccio quegli scatti laterali incredibili poi Non ho capito, stava sparando a me No, c'è per ricaricare C'è per ricaricare, hai visto? Sì C'è una cassa di munizioni Buon, perfetto Non... Ah, 540 munizioni Vedi? Eh, questo che ormai... Cambia arma secondaria Bulldog Questo è il fucile a pompa in teoria Ma... Boh, mi spara Gli ho cambiato la canna Nel fucile a pompa Fumogeni! Serve una marcatrice! Ma che cazzo di figata? Fighissima sta cosa Sì, vedi un attimo i miei nemici dove sono Ma... Vedi un po' i unisci and get bomb Guarda che tu sei andato proprio dentro No, 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 non ti ricordi di unisci Mi ha ricordi di unisci Mi ha ricordi di unisci Guarda che mi fa schifo sto fucile Sì, sono andato dentro il mu... Come cazzo faccio a... Ricarica Scusami, schiaccia il tasto... La direzione sinistra o destra Per togliere quella... No, certo Fatto Grazie Era il boost quello Sì, grazie Quello per rallentare la caduta Mi hanno uccisi tutti Restiamo concentrati Non lo so quando sto calcino Puoi attivare sotto dito lei Perché? Voglio leggere cosa ha detto Ha detto... Attenzione Premiamo... Che cazzo è? Oh, dammi l'arma Non sparare, alleati Identificatevi Squadra di soccorso Atlas Atlas Noi siamo marini Ah, loro sono l'Atlas Come è il tempo a sud? Una merda Meglio prendere il tunnel a est Ricevuto Buona fortuna Andiamo Con me Ma che... Non è la compagnia di tuo padre Se... Ho sbagliato Ho ben pagati Ed equipaggià Perché non sei con loro Era per segnalarmi I problemi da solo Voglio sentire la patria Non mio padre Oh... Basta parlare Dimentica Aspetta Battuglia Eliminare Basti Amici Siete fottuti pezzi di merda Siete fottuti pezzi di merda No... Esci Cosa esci? Cosa esci? Cosa esci? Cosa esci? Tu sei un debole No... No... Io sono una persona che tiene la sua vita Mu... Oh cazzo Muori pezzo di merda Prendiamo il dibole Cosa esci? Cosa esci? Cosa esci? Perché mi stanno... Ce ne sono troppi adesso Cosa esci? Ma i marcatori servono quando non... Cosa esci? Un nemico Guarda che figa Come li vede qua? Spara Vedete se puoi furare Posso furare? Posso furare? Bene 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 Oh Ho trovato Cazzo Non lo vedo Ma quanti cazzo ce ne sono? Ma si dai Una bella scazzottata come i vecchi tempi dai A tra la Bad Spencer Vaffanculo quanta gente Fai schifo E vabbè c'è troppa Sei una merda Sono da solo? Fai cagare Ah sono riparto da qua perfetto Scusami stai fermo Non capisci ma stai fermo un attimo ah Scusami granata Ma ammazza quella roba lì o fa... Si ammazza però se... Dai dai Nooo Finalmente arriva una granata amica eh Cazzo Mi scatta C'è una valigetta o sbaglio a prenderla? Stai fermo Arresta leggermente Ci sono amici Vieni indietro e abbassati Stai fermo Vedi che c'è una valigetta verde Che cosa saranno noi? Prese Probabilmente sono colti Ma vaffanculo Pezzo di merda Puoi spostare? Così No E sono sopra tu Hai visto? Devo prendere la torretta adesso L'hai visto tu quello lì? Si Ti dite io guarda sotto Ok andiamo a vedere se sto sopra la torretta Prendiamo il buffo Amico Non posso prendere Vabbè Riapprendiamo la zucca Se no mi è uscito no? Mi ammazzo bene la gente Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Lancia un missile dalla finestra Marcatrice Io eliminerei prima quello da sopra Che lancia missile Cosa stai facendo? Fatto! Bravo Lo hai ammazzato quando scompare? Sono tipo tu ai muri Ma però hai visto? L'avevo colpito eh L'avevo colpito eh Marcatrice Si si Boh però La marcatrice è una figata eh Si che comoda Molto comoda Solo per te che non capisci Che non vedo niente Oh! Questa mi sembra un'arma Scusa Tieni premuto Quadrato No non vuole prendere Se la fa vedere almeno Se la fa vedere cosa succede Mi cambiava arma Ah ho capito Pensavo che attivasse il mirino secondario No 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 cambiava arma Usiamola giusto per Vedere com'è Ecco ho pochi colpi ragazzi Per questa arma Muovetevi su muovetevi Io della prossima volta gioco io Che cazzo è qua? Vedi se puoi spararle alla mattina Spara le torce Beh non hanno migliorato neanche Ma rimangono i buchi Quello è il tuo obiettivo Bene 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 Vediamo un po' cosa devo fare adesso Tu pensi che tu ti romperai Eccola Cazzo Sono morti Ok ok Vedo i loro esplosivi Possiamo farcela Non siamo una squadra demolizioni Lo so Ma mentre ne aspettiamo un'altra Quel lanciamissili si sposterà altrove Penserò io alle cariche Voi copritemi Sicuro Will? Sì Posso farcela Ok Mitchell Vai con Irons Usa quell'LMD Copriamo le spalle Andiamo Vai Via Porniamoci di munizioni Ma ne tirerà un po' di granate Quello di tanto per Pezza di merda Rattata Rattata Sì 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 Cazzo Ah ma spara a raffiche di 3 Spara a raffiche di 3 questa arma Non andare avanti Sono lì in parte e sono ancora vivi Bruto stronzo Potente però con l'arma Guarda ammazza Morite stronzi Bene e ora si ragiona Adesso sappiamo qual è la nostra nuova arma preferita Ora si ragiona ragazzi Asicuriamoci che non siano morti per niente Sparagli Morite tutti Ma cos'è ma anche gli inseguono Scusa Non lo so quella roba Non lo so ma non è un problema E' morto no Sì ma se non ha Ma quella è la case track che ci sono prima Sì Fai che spara No diciamo Ah un minorino strano Aspetta Ah vedi E' ibrido Non zooma di più Vedete figata com'è fatto Bene adesso passeremo tutto il tempo a vedere Fantastico Fantastico Andiamo avanti Spero che ti stanno mirando anche qua In alto Vieni magari sono anche qui sopra Adesso c'è il fuoco Ah ancora vivo Adesso sei morto Pezzo di merda Sei morto E adesso deve andare da questo qui a Non so Andiamo avanti noi Sì Dobbiamo distruggerlo praticamente Dobbiamo distruggere il lanciamiscile Dai su Tieni queste cazzo di cariche E distruggi tutto Ma che cosa è sicuro Stavo giusto per dire Che cazzo da mettere un portatone Che si apre Cazzo che male Ok tira Tagliati il braccio Decolliamo Devi scendere subito Mitchell Non c'è più tempo Devi saltare ora Tutto ok Ci vediamo dall'altra parte Ci vediamo dall'altra parte Ma forse ancora vivo Che praticamente l'ha buttata giù Sì ma non poteva buttarla dentro Senza metterla Oh capito ma come Siccome ha aperto la buttarla così Magari ha pensato che Si sarebbe No ma dico Boh aspetta Ecco Mitchell Cazzo grande Spaceman Badger 2 a terra Evocuazione immediata Resisti Non mollare Te la caverai Ti portiamo a casa Con cacchioni dolci Ma secondo te muore Ma se sei il protagonista Ah Hai perso un pezzo È il braccio No Cosa mi importa Viene il braccio Hai guadagnato un trofeo Hai perso un braccio Perdi un braccio Vabbè ragazzi Prima missione è andata Prossima missione Prossimo video scusate Seconda missione Ciao a tutti E al prossimo video Ciao Ciao